Faustino Aspriglia è un ex giocatore del Parma, colombiano, che arrivò nella nostra città a inizio anni 90, giocò nei tempi d'oro della nostra squadra. In Italia l'abbiamo imparato ad apprezzare sia dentro che fuori dal campo. C'è nella palla per Melli, tocco per Aspriglia, tiro a rete! Incredibile gol di Faustino Aspriglia! Forza Atalanta! Orrendi insulti da parte dei tifosi avversari dell'Atalanta perché insultano Aspriglia non solo per il suo modo di giocare ma bensì per il suo colore della pelle. Ma attenzione perché è un'altra azione del Parma, Aspriglia ne salta uno messo giù al limite dell'area, punizione per il Parma. Ma vabbè non fai schifo! 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 Attenzione, punizione, battuta fuori. Con questo si conclude la partita, vittoria per il Parma, ma grande sconfitta per il calcio italiano. Restituisco la linea in studio a Ilaria. Grazie Edoardo, do la linea a Luca Larsson con Faustino. Fai schifo! Grazie mille Ilaria. E allora Faustino, tu cosa ne pensi dei cori razzisti nei tuoi confronti da parte della tifosi avversari? Beh, sentivo i bù però io pensavo solo a giocare. Poi se uno fa bù sono a fare i suoi, non niente. Bravo! Grazie a Parma! Grazie a Parma! Grazie a Parma! Grazie a Parma! E un giorno succede un grave episodio. Alla casa di Aspriglia si sente bussare alla porta. Parlerò presto, per ora sono abbandonato da mia famiglia e andate via. Paga quanto richiesto, altrimenti ammazziamo tutti. Parlingo dalla tua famiglia fino all'ultimo dei tuoi impiegati. Andate via! Oh, sta attento! Andate via! Andate via! Andate via! Passare la mia terra. Sono vittima di un'escursione e vieni a minacciarti per questo caso da decidere di lasciare i tuoi. Ho dedicato la vita all'estero a rappresentare il mio paese, a dare gioia al mio paese. Ed ora che posso recuperare con i miei cari, sono costretto ad uscire da una porta sul retro. a dare gioia per il mio paese. Allora, a dare gioia al mio paese per il mio paese. A dare gioia al mio paese. Anche a dare gioia al mio paese. perché è stato un personaggio molto importante per la città di Parma e che i tifosi hanno imparato ad apprezzare. Passiamo al Parma PC per averci dato la possibilità di svolgere il progetto CalcioStory in tutte le sue fasi. Un ringraziamento va anche alla Lega Calcio Serie A, la UIS Parma e il Liceo Bertolucci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS